bella bellissima l'esperienza della gestione di un programma di scienza via radio e per me è stato particolarmente formativo anche lo stage all'orto botanico di padova pascal una volta scrisse una lettera ad un suo amico e la concluse chiedendo gli scusa perché aveva scritto una lettera troppo lunga invece di avere il tempo per scriverla più breve ecco questo master mi ha insegnato a scrivere una lettera breve cioè a organizzare una comunicazione strategica chiara efficace ed efficiente mi ha insegnato anche che l'astronomia è una scienza osservativa ho scelto di iscrivermi a questo master perché penso che la scienza sia la sfida più difficile nel mondo della comunicazione ho imparato quello che ho imparato dall'esempio confrontandomi con i maggiori professionisti ed esperti degli diversi ambiti scientifici in un confronto che è sempre stato attivo e al di fuori di quelle che sono le rigidità diciamo accademiche ho imparato attraverso delle tecniche che mi sono state date ho ampliato la mia toolbox e sicuramente ho ampliato il mio mondo e il mio modo di vedere il mondo e adesso ho delle nuove domande del master mi è piaciuto il fatto che mi abbia dato un diverso punto di vista sulla scienza che non fosse solo i libri e le dispense universitarie e mi è anche piaciuto il fatto che abbiamo potuto fare confrontarci con la radio e con diverse testate giornalistiche anche sul web sia a livello di lezione sia a livello di stage